ci sono molto poco vicino sono due a un momento di rispondare testo sono troppo per loro ai mani e bufali ma i bufali bufali il progetto di ammazzato tutti o vai a roma sopra l'amazzo il no stanno si avvicinando in un gioco mi ha trovato una buona mappa comunque allora chi c'ha loro? dobbiamo decidere dove mettere la cosa chester chester una tante legna ricordate che puoi sponare il guardiano dove lo mettiamo? ma lo metti in maglio in un posto possiamo facilmente curare quando ci attaccano qua dove sto io qua non va bene facciamo la base tutta qua intorno tanto questi alberi poi li togliamo voglio le trappole dei conigli la fanno sac e la riappiazzando tutta la savana tanto richiedono solo gramoscelli e grasso se da farmare solamente vabbè ma ne possiamo fare uno e fare come abbiamo sempre fatto nooo basta che sai come si fa per essere sicuro che avevi sempre cibo ne fai 5 o 6 e ne metti sulle tane quando hai bisogno di cibo ti impi e te vai piato tanto le trappole si spottano sulla mappa se premi M 36 36 37 38 39 40 41 42 41 42 42 42 42 42 43 43 un un il auguranto riesco si 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 rispottano ogni due tre giorni conigli se li uccidi allora io ho da prendere la pietra cosa 1 2 2 e le board mi saranno e spremo M ti dice le trappole ah si è un po' una chiavica perchè sembra tutto altro però eh si infatti cosa? eh bru... l'estetica delle trappole il simbolo della trappola è molto simile agli altri quindi prendo pietre... no non posso fare le pietre manca una flint andiamo ci dobbiamo fare le armature mo lo fa la crock pot e lo frigorifano mai a cacciare le cose per chi era proprio il guido no la food la crock pot come si faceva pietra carbone e ramoscelli tanta pietra un po' di carbone eh eh quanta pietra serve? eh tanta cazzo cazzo 9 pietra ognuno votata normal no di più ehm se mi date una flint vado a fare le due pietra che stavano qua eh Peppe sono andato io a far prendere la pietra eh tengo già molte pietra in giro poi c'è l'erba alcuna e la spera che non hai fatta ma le vado a prendere io io ho una monster mi testo andando a male eh passamela a me appena puoi o cucinale e poi me la passo la puoi mangiare tu? eh la mangio ho perduto un po' di sanità mentale non fa niente intanto mo sta bene la sanità mentale preferisco consumarla visto che posso andare ah io non posso fare il fuoco ah boh stai qua vicino sta vicino al mentre ma perchè ti ma che legno? no mi manca la ropa la grassa la grassa la grassa sto arrivando io c'ho il grassa però a me manca le pietre per fare ah tu dici l'anno il fuoco quello la ma guido la raccogli fai ci circolo sopra le piato ma io no 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 che sta arrivando ma cosa ci serve ciò colpo ma ma io qua non lo vedo la prossima cosa è stuto ho una torcia ok quante ne abbiamo? cinque passa no? anzi sanità mentale come stai misdo io? eh 116 chi ha la sanità mentale bassa? io lo sto apposto ma poi le faccio fame ci conviene far craftare le cose a chi ha sanità mentale bassa che si alza creando le cose per la prima volta nuove si alza beh io non so perchè la mia sanità mentale non scende proprio è ferma a 200 che si è il giro il giro ha il giro il giro il giro è il giro è il giro il giro è il giro allora la base è il giro è il giro arriva la pietra ce l'ho ce l'ho ne ho 11 in 46 5 c'è la guida dove 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 quanta però prima di piazzarla proprio qua oh io c'è cibo no no è a posto io c'ho 20 di fame eh oh io c'è della come faccio a vedere sulla mappa se la trappola è scattata? basta che torni là ah non la vedo dalla mappa no vedi dove è la mappa vedi dove è la trappa non si è scattata ma l'ha scattata quasi sempre cioè non ci vuole niente a catturare con io ci ho 7 16 questa non è scattata questa non è scattata questa non è scattata questa non è scattata waiu waiu mi è scattata manguona ma nessuno di voi c'ha condimenti cos? no ma c'è due carote oggi stiamo fam dopo morire fam mi vedi qua mangiati la master mit aspetta devo catturare un gonicchio ma c'è due carote mangiati stai due carote devo catturare un gonicchio no 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 non consumate non consumate non consumate venite qua mangiate la master mit le carote ci servono per fare le cose di ok ok ci ho mangiato 3 3 3 4 bene avevo 5 t ma c'è la crockpot si non c'è cos'è sta schifezza dove sta la master mit 6 7 7 ora pietro 6 6 ti servire più ommadi un 5 sposto sposto 4 4 quattro guido 3 guido 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 2 ok ma no oh 22 questo non era cibo era monniz ma diu c'è me la da fa col cibo come va le nostre trappole se non scattate tutte quant'ha ti fatto scendere la vita al cibo non l'ha controllato ma perchè scende così velocemente sta a 17 di nuovo allora qua c'è 4 master mit chise la senta tututututututut aspetta non fullatemi perchè tanto maniamo a cacciare bufali quindi eh c'è 65 ora tra chi ha bisogno di altre master mit ma a me non sta scendendo un cazzo quando mangio la master mit ebbene a me scende di poco la roba 93 33 28 52 25 83 cosa è sceso? scende vite e sanità mentale la voglio tegri eh già ho mangiato la mostermittura ora sto a 5 facete lo sti logo su it io non ce l'ho però c'ho 25 di vita fa niente con la logo su it resisti un colpo dove sta logo su it mi servono due ruppi oh cazzo avete sentito? no no già come metto io l'ho fatta io l'ho fatta ecco qua cristiano ammresso ho la mia di base ho l'armatura del personaggio lo sapete ma il mio zene aspetta c'ho qualcosa da portare dentro ok andiamo guidalo venga 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 fa venga posso meltare no? e chi è su zain? di beppe? io eh ho l'ho anche scritto quello lascialo là no infatti chi ha poca vita copriti chi ha poca vita quindi resta così dovrebbero essere pochi sì 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 ma perché già arrivano i cinghiali mo? sì sì giorno 7 sembra wow porco dammi spostare cazzo e io il fuoco beh quindi devo attendere piver vabbè immagino voglio venire pure io guido aspetta sì sì chissà non usarla ahahah ando ho 200 di sanità mentale ma lo usalo ma perchè che fa con la spada? lei è la faccenda la sanità mentale però è forte ma io prendiamo delle bacche ehm prendiamo delle bacche ehm lanciamo le bacche ai mostri ehm lanci pezzi di robottino ahahah buco burro buco burro buco mani vista l'approaching bernardino eh, perché di notte provi arrivano di salvia ma parlate ahia se ce la fai ma è che frede per terra ahia a che frede per terra eh un sicuro la cristiana mamma mia cosa ohio eccola qua Allora, 5 anni di sanità mentale Eh, infatti Ma da cosa hai fatto la tua spada, Cristian? Molto Provo a 76 di... 76, già, sai Sto al 76% Ah, di cosa? Puoi uscire allo scoperto 76 che cosa? Di... la posso utilizzare... Sto al 100% Sto al 76% Eh, ma poi si... come la fai a ricraftare? Non lo so Ho un libro... ho un libro che ti sei scritto Vabbè, voglio... comunque siamo stati bravissimi Sti guardando